Ci tocca davvero guardare... Sì, siamo straqualificati. Ci tocca davvero guardare il Metagame Explorer. Lo guardiamo il Metagame Explorer. Lo guardiamo insieme a voi adesso, a questo punto. Facciamo analisi Metagame Explorer, a questo punto. A questo punto facciamo analisi Metagame Explorer. Ci tocca. Ci tocca farla. Eh, nemmeno io. Lo scopriamo adesso, ragazzi. E anche gli amici di YouTube lo scopriranno insieme a noi. Scopriamo l'analisi Metagame Explorer. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Vediamo una panoramica del Metacorrente. E poi vediamo anche gli ultimi sette giorni. Allora, prima per partite giocate. Ah, Grulborn. Explorer, Best of Three. Grulborn è il mazzo più giocato. Gigantus, White Spheres, Oscar Mage. Ok, quindi questo è un mazzo vero. Mazzo verissimo questo qui, quindi. Mille è il... come si viene di White Card? Caro, lei non ha chiaro il mio patrimonio. Non ha chiaro il mio patrimonio di White Card. Dubbi del mio patrimonio di White Card. Detto ciò, Grulborn ha difficoltà forse pure a Untappet a connettere. Sì, vabbè. Comunque, questo non lo conoscevo, però... A quanto pare è il mazzo più giocato secondo i dati Untappet. Quindi, interessante. Prendiamo atto. È una versione molto simile, in realtà, alle versioni che si giocano in standard. C'è la Tarca Command che è molto forte. È una carta che fa tanto anche contro Life Gain. Visto che Angeli, secondo me, è un mazzo che esiste. Da questo punto di vista è un mazzo vero, secondo me, in Explorer. Quindi, Grulborn, prendiamo atto. Fenici, classica lista di Fenici con Opt, con i Fieri Impulse, con il Prismaric Command. Fenici esiste da un sacco. Addirittura questa lista gioca a Shock Main Deck. Però, vabbè, è proprio Fenici classico. Come è anche classico Amalia. Infatti, è tre mazzi più giocati in Explorer Amalia. Aggiunte di carte nuove. Qui c'è lo Shoff. Quindi, Shoff, carte nuove. Per quanto riguarda il mazzo più giocato secondo i dati Untappet. E addirittura anche il Demonic Rukus. Perché si può plottare effettivamente nel suo senso. Quindi, Grulborn, mazzo più giocato. Due carte nuove. Fenici non ha carte uscite con l'ultima espansione. Decisamente no. Nemmeno di Side. E quindi abbastanza classico. Abbastanza classico Fenici. Amalia. Classica lista di Amalia. Non tutti giocano Fana Shaman. Comunque, la combo la conosciamo. Quella con il Walker, con Amalia e con Dina. O altre carte che permettono di andare a fare... Poi, quando guadagno vita, tu perdi una vita, eccetera, eccetera. Qui c'è uno per di Aven Interrupter che ci sta perché alla fine è una combo che se non la interrompi in quel turno lì, ti va a chiudere o con Dina o con Letter, Flux e via andare. Carte nuove, quindi qua ce n'è una. E Decide. Quanto tempo che non vedevo il Clerico. Interessantissimo. Quindi questo è. Poi, altro mazzo giocato, ma Weerate non alta. Quindi non lo guardiamo proprio. Ah, ok. Il Weissnot. Non ha questa grandissima Weerate, quindi... Rakdos Vampiri. Ormai si gioca con il Dross. Si gioca ormai stabilmente con il Dross, sto mazzo. E... E questo forse è quello che porterò io al Qualifier. Credo che questo potrebbe essere il mazzo che io porto al Qualifier. Perché... Perché alla fine l'ho già giocato, è molto solido. Vedo che anche la Weerate comunque è buona. E credo che questo sia il mazzo che io giocherò al Qualifier. Potrei pensare di portare questo. Bello, Izzet and Soul. Comunque un certo numero di partite giocate, con The Royals Shones. Questo mazzo si basa sull'Incantesimo and Soul, che ti rende un artefatto che diventa una creatura 5-5. E abbiamo appunto le Darksteel Citadel, che sono le terre artefatto. Quindi un po' va in quella direzione il mazzo. E... Non mi fa impazzire questo, non è troppo... Oddio. Magari lo proverò. E' sicuramente molto divertente. C'è anche il caso di Mordered Call of Manor. C'è il Copter, che è appunto arrivato su Arena con la nuova espansione... Con la penultima espansione. Interessante sto mazzo. I artefacts sono comunque forti. Poi c'è Monored Maghi. Gitula Varunner. Monastery Swordspeer, che non è un mago, però vabbè, ho capito la logica. Giocare le carte comunque rapide, per i due turni, o che hanno Prowess. Kumano, eccetera, eccetera. Non lo giocherò, però. Ok. Spiriti. Spiriti è anche un mazzo che è in meta da un sacco di tempo, con il Copter. Gioca a Gobakan, perché ovviamente si gioca adesso a Zorius, perché c'è lo Spellcweller su Arena. E quindi ovviamente la versione è uguale alla versione che si gioca in Pioneer. Non è un mazzo così tanto in realtà giocato. Perché ha, diciamo, ha diversi problemi. Però è molto divertente. Io ci ho giocato tanto con Spiriti. È comunque un mazzo divertente. Non penso di farci il qualifare, però è un mazzo divertente. Resiste anche Kintorius. Nonostante la Prazer non sia presente in Pioneer e quindi in Explorer, però c'è comunque quella versione con Keruga e con, appunto, Kintorius. Quindi a segnalare. Poche partite. Winrate decente. Monored Born. Poche partite altissima winrate. Un qualifier Born, però... Altissima winrate. Poi andiamo a vedere quelle con winrate più alta. Con il Codebreaker. Qui gioca Chandra di meno, addirittura in 3x. Interessante. Da vedere. La winrate è alta. Cross Heroic. Questo è un mazzo che abbiamo anche visto all'ultimo Pro Tour Pioneer. Ciao boss, buonasera caro. All'ultimo Pro Tour Pioneer. Secondo me strappa le partite. Non è molto consistente. Post side forse perde un minimo. L'effetto sorpresa non c'è più, tra l'altro. Quindi questo è Boross Heroic. Poi abbiamo Celestia e Angeli. Assolutamente in meta. Questo è un mazzo che, se becchi a Zorius Control, va in difficoltà. Ma contro tutti gli altri matchup che abbiamo visto adesso, comunque questo mazzo qui, forse anche contro Amalia Combo non sta messo benissimo. Ma contro tutti gli altri mazzi che abbiamo visto adesso, non è che ha messo così male, eh, Angeli. E' un mazzo che, grazie a Collette & Company, ma non solo. C'è anche Kyla Reconstruction e devi starci attento. Secondo me i matchup negativi di Angeli sono oltre a Control, che è proprio il matchup negativo storico di Angeli. Quindi anche Amalia credo che non sia un buon matchup. C'è anche Monowhite Aggro, Caruccio. Questo è un po' più resiliente da Aggro perché ha Letalia, ha le Wedding da mettere post side, contro Aggro. L'invasione di Golbacca, cioè contro Control, l'invasione di Golbacca contro Control. Questo credo che abbia qualche problemino, più di qualche problemino, forse contro Rakdos. Però è un bel Aggro. E' quindi da valutare. La Priest di Main. Ah, contro esatto, contro Rakdos. E' risposta a quello che fa Sorin. O anche contro Angeli. O anche contro Amalia, che gioca corda comunque Amalia. Quindi la Priest è interessante. Quattro per di Main è interessante. Comunque è un umano. Questa tech è Caruccia, eh. Effettivamente risponde a tutto il meta, la Priest. Quindi ho capito la chiamata. Azoius Control, che è uno dei mazzi che è sicuramente più forti. Non è il mio tipo di mazzo, ma è molto forte sicuramente in Explorer in questo momento. Ma in generale è sempre forte, perché ha carte forti, rimane forte comunque in Pioneer da un sacco di tempo. Matchup negativo contro Rakdos. Però per il resto, anche contro Feny no. Contro Feny ci sta lì. Contro Rakdos è un matchup negativo a Zero Scontro. Contro Sorin Van Ripper. Poi c'è Dimmy Grogg, che comunque fa le sue cose. We rate è abbastanza alta, anche se partite un po' pochine. Qui si è aggiunto Tiny Bones. Alla festa. Si è aggiunto Tiny Bones alla festa. C'è ancora in giro Raktos Sacrifice con Gatto Forno, con Mayendevil, con Croxa. Fichissimo, questo è un mazzo che è in meta da un botto di tempo. È un'altra versione di Amalia. Vediamo a livello di We rate, per curiosità, a Zogus Control. Questa versione da Zogus Control. Andano a 40 più match. Questa versione da Zogus Control è la versione con We rate più alta. Con Kaiga, come companion. Tre Teferi, Tre Emperor, un bot di Vratte, Farwell, Censor, un tarco di Counter, No More Lies. Speriamo tutti di non beccarcelo contro. Poi Amalia, secondo mazzo, con We rate più alta. È la versione che abbiamo visto, no? Questa è quella con Sentinel. Sono questi i mazzi, da tanto tempo sono questi. Grulborn mi sorprende. Ecco, questo è un mazzo che mi sorprende. Grulborn è un mazzo che mi sorprende a quanto. Lo testerò. Questo lo testiamo sicuramente. Questo è un mazzo da testare, perché comunque la We rate c'è. Capisco pure il senso del mazzo. Tantissime spell, tantissime spell che vanno a lavorare sulle carte con Prowess. Pesca con la Druida. Uno perde il Bonecrusher. Audacity, insieme a tutte le altre spell. Capisco il senso di questo mazzo. Ciao Amaro, buonasera, buonasera caro. Boros Convoke. Questo qui è quello che all'inizio, quando ho letto che c'era il Qualifier Explorer, avevo pensato a Boros Convoke. Perchè non c'ho sbatti. Boros Convoke va dritto. Perde male da, può sai, da alcuni mazzi. Però ad esempio contro gli aggro se la passa molto bene. E Boros Convoke da valutare seriamente. Chissà perchè c'è il Declaration Stone. Contro cosa c'è il Declaration Stone? Cos'è che è in meta contro Mirror? Contro i pippoli del Mirror probabilmente. Declaration Stone. Si può stare. E quindi Boros Convoke. Rakdos Vampiri, versione proprio classica. Questa è quella del Pro Tour. Questa è quella del Pro Tour con due scelli. Questa è la versione che ha vinto l'ultimo Pro Tour. Esattamente sì. Blot Out. Che va appunto a essere messo nel Mirror contro The Ripper. Versione Pro Tour. The Line of Void contro Fenici. Ashok contro Fenici. Interessante. Dwayne Port of Despair. Anche qua questo è un bel mazzo alla fine. Un bel mazzo. Ancora Monogreen Devotion che però perde carne. Quindi si affida alle creature. Il Trailblazer è entrato anche in Historic. In qualche lista si gioca. Vediamo uno VR alto con 500 partite. Non ci sono 500 partite giocate caro. Infatti non guardare troppo la win rate. Qui stiamo guardando un po' una serie di mazzi. La win rate lascia il tempo che trova. Anche perché in Historic non è che ci siano molti campioni. Per dire che ci sono solo 16 mazzi a database con più di 60 partite. Ed è Raktos Vampiri. Quindi alla fine è confermata la cosa. Raktos Vampiri l'abbiamo visto anche prima. Però il meta è quello che è quello Pioneer. Quindi non stiamo scoprendo niente da un certo punto di vista. Ovviamente non c'è il Dance Stream. Quindi manca quella parte di meta lì. Però Vampiri, Azorius Control, Amalia. Cioè sono tutte liste che mi aspettavo di trovare onestamente. Fenici. Sono quelli. Il meta è quello. Va capito in un meta come il Qualifier. Quindi i mazzi più giocati alla fine sono quelli. Le win rate... Allora secondo me qua la tier list è abbastanza facile. Nel senso che Azorius Control, Raktos Vampiri, Amalia Combo, Fenici. Questi quattro secondo me sono i mazzi più forti. Poi ci sono i super aggro come Boros Convoke. Che è ovviamente un mazzo che dice la sua. C'è questo nuovo Gruel Prowess che è interessante da vedere. Qui c'è un Monored Wizard pure. Con un indiscreso numero di partite in realtà. Quindi da prendere in valutazione. Andiamo a vedere per curiosità. Quindi qua andando sui 40. Gli ultimi 7 giorni volevo vedere. Il mazzo più giocato. Ultimi 7 giorni. Mono Black Discar. Ma i dati sono pochi. Quindi non mi affiderei troppo a scegliere quello con la win rate più alta. Oddio sono pochi. Ma sono sempre di più di quelli che farebbe una sola persona come testing. Quindi comunque meglio di niente. Amalia ragazzi. Amalia. La scelta è quella. Vampiri contro l'Amalia. Fenici. Questi sono i mazzi. Esatto. Nero. Questi qua. È un formato assolutamente stagnante. Che non è per forza una cosa negativa. Però è così. Questo è il dato di fatto. Vampiri. Vampiri. Qualsiasi cosa andiamo a selezionare. Se ci fate caso. Alla fine Vampiri è sempre in cima alle classifiche. Vampiri e Amalia sono sempre in cima alle classifiche. Quindi sono quelli i mazzi più forti. Anche se a me. Umani con Priest main deck. Devo dire che mi piace. Umani con Priest main deck. Che risponde a tutto il meta. È un mazzo che mi piace parecchio. E quindi. E quindi sì. Quindi addirittura qui c'è un Five Color Thermography. Che va a prendere Atrax. Andando a fare token. È proprio fantascienza. Nonostante sia un formato. Comunque. Che ha parecchi anni di carte dentro. Non riesce a uscire troppo. Ad avere quei due o tre. Tier 0. Tier 1 assoluti. Per cose a me non piace. Perché è proprio saliente da anni. E quindi. Boh. Molti si annoiano per quello. Probabilmente. Detto ciò. Questa è. Questa è diciamo. La fotografia del meta. Quindi le considerazioni sono quelle. C'è poco da fare. Quindi è un contenuto che è molto simile al contenuto dell'ultima analisi che abbiamo fatto. Perché nei fatti è cambiato poco e nulla. Per gli amici che vedono questo su YouTube. Mi raccomando. Iscrivetevi al canale. Che la maggior parte di voi vede il video senza iscriversi. E non si fa. E quindi ci vediamo al prossimo video. E buon qualifier e buoni play-in a chi lo farà.